Lorenzo Riccardi, chi è, età, lavoro, Claudia Dionigi, figlia, la scelta uomini e donne, foto e Instagram. Tutto pronto per una nuova e imperdibile puntata del sabato di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 è più amato e seguito dal pubblico. Perché se è vero che da una parte i riflettori, ormai da giorni, sono puntati sul Festival di Sanremo. Dall'altra è altrettanto vero che è difficile immaginare un sabato pomeriggio senza Verissimo. Silvia Toffanina è pronta ad accogliere in studio nuovi ospiti, come Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. I due si sono conosciuti a uomini e donne e ora sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria. Lorenzo Riccardi è noto al pubblico di Canale 5 per aver partecipato come tronista a uomini e donne. Sappiamo che è nato il 13 aprile del 1996 a Milano, sotto il segno zodiacale dell'Ariete. E nella vita ha lavorato prima come impiegato nell'officina automobilistica di famiglia. Poi come influenciere imprenditore nel campo dell'abbigliamento. Nel 2020, tra l'altro, è stato anche opinionista di uomini e donne al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Lorenzo Riccardi ha partecipato diverse volte a uomini e donne. La primissima volta per corteggiare Ludovica Valli. Poi Sara Affifella. Dopo il no della tronista Maria gli ha dato la possibilità di diventare tronista. E lui non ha rifiutato la proposta. Durante il suo percorso a uomini e donne, ha scelto la corteggiatrice di Latina Claudia Dionigi. Tra i due la storia, a distanza di anni, procede a gonfie vele. Innamorati e complici come non mai. Insieme, nel 2021, hanno partecipato al programma di Real Time di Amore d'Accordo, condotto da Katia Follesa. Da poco Claudia e Lorenzo sono diventati genitori della meravigliosa Maria Vittoria. Ma non solo. Lorenzo ha chiesto a Claudia di diventare sua moglie, quindi forse nel 2024. Convoleranno a nozze. Insomma, la loro è una storia d'amore che ha fatto sognare. E continua a farlo. Molto seguito su Instagram, con l'accountette Lorenzo Riccardi17 vanta oltre un milione di followers. Qui, come tutti gli influencer, condivide scatti della sua quotidianità, della sua famiglia e del suo lavoro. Il executi ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, dumele tante printre tale aculte. Încerc flow-uri sute la show-uri buite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc. Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...